Nel mio laboratorio ci interessiamo del cancro prostatico. Il cancro prostatico è molto frequente ed è curabile quando è localizzato, tuttavia quando metastatizza diventa difficile da curare. Ci sono poche opzioni terapeutiche per il paziente e questo rende la vita dei pazienti molto difficile. Nel nostro laboratorio ci interessiamo appunto di comprendere a fondo i meccanismi che portano il tumore prostatico a diventare metastatico e aggressivo. Il progetto finanziato dalla Lega Svizzera contro il cancro riguarda lo studio di una proteina regolatoria che si chiama ERG. Questa proteina è alterata, iperprodotta in più del 50% dei tumori prostatici, tuttavia in alcune circostanze si attiva e porta il tumore alla metastasi. Noi vogliamo comprendere i meccanismi molecolari che portano all'attivazione di questa proteina e che determinano quindi l'aggressività del tumore, la progressione metastatica. Noi siamo confidenti che questo tipo di ricerca possa portare a delle terapie più effettive e soprattutto più mirate e specifiche per questo tipo di tumore che presenta alterazioni di questa proteina. Ai donatori dico grazie per il sostegno alla Lega Svizzera contro il cancro. Affinché la nostra ricerca sia rilevante ed impatto è necessario il vostro supporto. Donate è la cosa giusta da fare per il bene di tutti noi e per le generazioni future. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.